Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale del vostro ZioGarbe92. Oggi vi porto il secondo episodio della serie Iconic Duels, che è una collaborazione con l'adorabile Matteone Innes95. In questa serie vogliamo portarvi delle sfide con mazzi tematici o con regole strane. Ad esempio in questo episodio ci sfidiamo col tema Angeli contro Demoni, quindi Inferno contro Paradiso, mentre nell'episodio 1 che trovate sul canale del buon Matteone ci sfidiamo con Piante contro Zombie. I deck li testiamo prima di portarli sul canale, quindi cerchiamo di tenerli abbastanza alla pari. Prima di iniziare il gameplay vi chiederei un feedback su questa collaborazione, su questo Iconic Duels, e vi chiederai anche dei suggerimenti per i futuri episodi, che possono essere dei temi come appunto Angeli contro Demoni, oppure con regole strane come ad esempio un mazzo con carte solo dispari o un mazzo con carte solo pari. Spazio è la vostra totale e assoluta adorabile immaginazione. In descrizione troverai il link per il primo episodio della serie Iconic Duels, ovvero Piante contro Zombie, e troverai anche i link per i miei incredibili canali social, oltre ai link per i canali social dell'adorabile Ilnes95. E adesso basta self-promoting, iniziano i gameplay. Paradiso contro Inferno, eh? Alla grande sfida. Dai, provo a tenerla. Un po' strana. Eh, qua io tengo. Buono. Guarda lì che partenza. Ti è aggressivo? Cos'è Shime? Eh, io più aggressivo ancora. Quello è il solo fa. Io faccio canura e passo. Eh, questa ci piace. Allora. Attacchi? Vieni, vieni. Out of nowhere? No, niente. Facciamo così e direi che facciamo la mappetta e passiamo. La mappa è forte. E' giusto alle pescate. Wow, i missili. Eh, un bel missile lì. Sì. Scelta difficile, eh? Chi pari? Sì. E' che ho paura della tua giocata a quattro. Ah. Visto il testing. Eh. La serafina non è mai bella. Però nei denti non l'ho apprezzata. Eh, ha fatto male. Eh, era molto mestruata, eh. Mannaggia. Ok, trionfo. Andiamo aggressivi. Sì, sì. Vabbè, perlomeno le donne me le hai potute fare. Vabbè, uno per volta... Piano piano, no? Eh già, questo è il piano. Io ti faccio la prison, no, dai. Penso sia la miglior cosa. Più che altro evito cose brutte. Che sgarbato qua. Eh, se no io lo sgarbe ora. Eh, ora sei tu lo sgarbe. Allora io ne approfitto. Ok, due segnellini. Ne approfitto. Andiamo in main. Ce la prendiamo con calma. E giochiamo a un piccolo devil. Turno 4. È un momento di piazzare il cancere. Eccolo qua. La tua amica. La mia amica. Allora. Qua io ero sicuro di aver messo lo stop in upkeep. Ah, a volte trolla, vero? Cioè, soprattutto, vedi l'avversario che magari gioca la creatura, te metti subito lo stop e non te lo prendi. No, è che io sono famoso per miscliccare, quindi potrei aver, essermi distratto. Ok. Allora. Suggere anche a me. Questo in post-produzione lo scopriremo. Eh, facciamo una brascona, allora. Debole non è. Più che altro non attivo afterlife. Eh no. Aia. Qua 17 turni adesso. Piano piano, eh. Eh, qua è già finito i sogni di gloria. Qui sono finiti i turni. Qui i turni si sono triplicati. Eh, tu sei fermo a terra, eh, però. Eh, io sono iscrivito. Attenzione. Per ora, sì. Per ora. Ok. Ma pello. Ah, spicy qua. Con spicy mi fai pensare allo spicy tuna e sushi. Eh, più o meno. Per prima cosa, io senza saper... No. Sì. Dai, diamo. Eh, tu... Non mi sembra nevole il Belzen. Eh? Oh, cazzo. Questo è fortissimo. Ok. Guarda. No. Ok. Oh, cazzo. Mi sa che ha pescato tutto il mazzo. Ah, chi ha fatto? Ah, cazzo. Ok, ok. Vabbè. Cazzo, fortissima. Ha pescato quattro con sta roba. Mamma mia. Non male. OP. Non male. E attacchiamo pure. Pure pre-combat qua. High level. High quality. High level. Mi sa che qui il paradiso va a fuoco. L'inferno si... Poi, diciamocelo. Diciamocelo. In testing, questi signori demoni non è che hanno fatto proprio... No. Non ci sono stati, inoltre. Non ci sono stati. Guarda, basta registrare. Eh, io qua... So che non giochi Awe. Potresti? Potresti far roba. Io so che non giochi Awe. Eh, giochi te, non io. Vam. Boy, eh. Bellissimo. Sì, sempre pregevoli le animazioni. Sì, sì, sono belle, sono belle. E vabbè, mi toccherà fare i prison, però... Oddio, non so quale sia più fastidioso tra lo spawn e il Belzen. Però per adesso il Belzenlock, penso, mi dia più in noia. Questo lo butto via. Non serve. Qui il Belzenlock è peso, eh. Ok. Prendo uno schiaffo. Ok. Allora. Attacchiamo. Eh, prenderò cinque bombe o la dieci. Allora, noi andiamo con calma. Andiamo tregua al paradiso. Insomma, con calma, fischio quattro. Molta calma non è. Ah, forse scarti uno, forse. Vabbè, ma qua siamo pieni di roba. Attenzione che tu però, in realtà, hai qualcosa che mi toglie gli incantesimi. Sì. E allora, togliamo il signor Tibalt. Ah, bello, ma... Cavolo. Bello così. Molto figo. A mosaico, no, più o meno? Eh, bello, sì. Mi è costato... Aspetta, adesso non mi ricordo se era Momi o Pauper, Tibalt. Forse era Pauper. L'evento. Mmm. No, e mi tocca fare un'altra prison. L'avevo usato sul Finn perché ne avevo tre in mano all'inizio. Quindi mi sono detto, ma a sto punto la spreco anche tanto. Why not? Qua è il tribale Prison Realm, non Angeli. Davvero? Ne ho 20 nel mazzo. E c'è la sheffa lì. La daybreak. Allora, abbiamo otto mana. Eh. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Eh, un po' sì, un po' sì. Eh, quello... Non è molto amichevole. No. Anche questi demoni zitti zitti comunque l'hanno portato a 13, eh. Guarda bello. Oh, che bello. Fortissimo, eh. Ho chiesto io a Matteone. Per favore, gioca al Serrasa Angel. In un mazzo Angeli. Non può mancare. Eh, no. È come se fai un panino. Come c'è a fare un panino senza il pane, dai. Ok. Non posso attaccare, penso. Non so quanto mi possa convenire. Scegli tu. Guarda andare in un punto vita. Io super confident qua. Oh, via. Ok. A me la ti suicidi con quello, eh. Farebbe ridere. Colpo di scena. Eh, qua ho un po' di removal, te lo dico. Eh, mi sa che qua si passa la rivincita. Oh, in mano c'ho roba inutile. Per adesso. Rally of Wings, però con un Whisper non lo gestisco. Eh. Non lo spondo. Io ho due B-Devil in mano, ti dico. Solo questo. Eh, infatti ho capito. Non posso nemmeno tropeccare l'Ira, per esempio, qua. C'ho la Rally, ma è inutile. Bella la Rally. GG. Esatto, che ci tocca andare al game 2. Andiamo, andiamo. Oh, mi hai spaccato, eh. Madonna mia, ma non ha mai funzionato così. Adesso è l'unico lampo di gioia. Sì, vediamo. Era 2-0 secco a casa. Esatto. Il paradiso va a fuoco. Completamente a fuoco, l'incendio. Bello quei boss. Ho detto nello scorso video che devo cambiare sto alfano e ancora c'ho Jace, ragazzi. Mamma mia. Stamano mi piace. Oh, qua sulla play. Keep easy. Mai, questo. Tutte le partite ce le abbiamo. Cittone. All right. Però c'è la signorina qua, ti stoppa tutta la race. Eh, la signorina lì è fastidiosa. Mani gialle, questi. Mani gialle. Sì, sì. Guarda, qui lo spawn per non lo può fare. No. Eh, 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 eh. Troppo ficticioso. Esatto. Troppo convinto. Oddio il paradiso si riprende ciò che è suo È che ti ripigli tutto ciò che è nostro Tuo Ah guarda lì Tutto fail Ma no No io mi sono pure inchiodato Sì Noi qua andiamo fiduciosi Eh qui di inferno ho avuto carenza di fiamme in questa partita Che filosofia Ti piace Allora Ce la rischiamo Ok Eh ma io c'ho la gnocca qua Orca Eva È entrata la madonna in campo Vabbè va bene Si va alla bella Sì alla bella Hai fatto incazzare le piume Le piume Che violenza Dai la bella Dai Senti io mi devo comprare tipo un coniglio Non so che nome dargli però Stavo pensando chiamarlo O arrosto Arrosto O griglia Sì sì O griglia O milo O non lo so Bolas O Bolas O Jace O Chandra Jace sì no ma Bolas Che attivissimo Mi fa molto più ridere il fatto Magari fra le fiamme no Dargli un nome per esempio Come Chandra Un coniglio O Rakdos O Rakdos Sì sì Una roba del genere Bello bello Mi piace il coniglio però Bello magico Mangio Sì sì Un agio Qua Me lo porterò a giro come se fosse un cane Mi sa Probabile Quella cittadina e collari Esatto ci saranno i collari Sì 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 Infatti io ho già preso tutto Allora io qua me la rischio Ok Anche io me la so rischiata qua Perché non sono Sono messo Normale dai Potrebbe andare meglio Dipende da cosa pescherò adesso O te ce ne hai sempre questi Io non so No È la mia nuova carta preferita Che è la mia nuova carta preferita Sgarbatissima Fai dei break Terra è entratappata Sicuro Devo punire il fatto che Puoi fare spawn of maim Attaccando Quindi Non attacco Mi sa E a questo punto Direi di fare Donno Mi sembra abbastanza cancer Come carta Mi pare di sì Occhio che questo È lo scontro decisivo Ragazzi Infatti sento già la pressione Della signorina Delle mani gialle Under pressure No che poi Ecco Adesso non possiamo più Caricare il video Copyright strike Ah già Siamo fottuti E qua la devo censurare Allora Io qua Qua io faccio così Ok Ah nice Nice Questa Questa si chiama Una bella curva Se ci arriviamo In vita Eccoci Dragon skull Oddio Quelle Potrebbero essere Problematiche Io pensavo di avere Tipo Il Lead game Però Non lo so Non sono molto convinto Perché c'è un po' di missili Aspettami Ok Eh devo pescare Dai No Veni da judge Qua spicy Me la lascio così aperta Eh Sì È bene ma non benissimo Cavolo Purtroppo non ho beccato la landa Ci ho provato Però ho fallito Nell'intento Andiamo in combat Ok Indovina un po' In faccia L'altro nostro amico Che poi è ganzissima L'immagine del Footlife Inde Perché Inizialmente non si capisce Perché c'è uno stivale Ma che cazzo c'entra E poi vedi dopo che c'è il Diavolo con la candelina in testa Sì è bellissima sta carta Ganza Ganza Allora Aspetta Vediamo un po' Quello può essere Quello non mi sta molto simpatica Come carta Però Ah potrei ignorarlo 2,4,6,7 No non posso ignorarlo Sì però bene Vabbè Zlock e muoio Turna un po' brutto da parte mia Che avrei preferito fare prima Però Avessi beccato Avrei fatto la pillar Ne ho due Mi sa che conviene Non attaccare Stare sulla difensiva Allora Qua La treasure map La attiviamo Ok Peschiamo Andiamo in main Guarda Pre-combat Sempre Fiduciosi Giusto Non rispettiamo Non rispettiamo Loppo E' bello Cancer Anche quello Mamma mia Forse Forse qualche Aue A metterlo Nel paradiso Una bella Una bella Settola Vediamo Allora Ci devo pensare un attimo Però Sono un po' confuso Perché Qui non sa che cazzo fare davvero Mi sa che vado a fare la binding A questo punto Sul wisp Che scappato Hai visto Il movimento sgarbe E' il momento di rimuovere sta capra No no aspetta aspetta Eccoci Eh però c'è la parte lì del coso Attenzione aspetta aspetta Ok Non mi sembra un buon affare attaccare No no Forse invece va abbastanza attaccare E' che ha capito Potevo usare Follendo anche La daybreak Per fare come prima Pago due punti Mana Per pescare Un'altra Ma però rimane tanto indietro Ma poi E' dato Poi che mi dice La trovo la terra Soprattutto Ok Fanno così Allora 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 Qui so cazzo amare Senza zuccheri Come dice il De Sia Eh un po' si Ah io faccio una cosa Ok La si Si lo faccio E se facci nei panty Eh vediamo Vediamo il tuo prossimo turno Eh ma tanto dice che Oh Ah Aia Tanto tu è un demone Non so Sì sì i miei sono tutti demoni E imp Devil Penso sto Rakdos Figo cavolo Mi piace Bello Finalmente Worka Cioè Worka Finalmente è stato utilizzato Finalmente Mi ha funzionato Ci ho provato tante volte E ho ucciso Un 1-3 Eh Si inizia Da piccoli passi No Eh sì Ok Io ci provo Settle No Magari Mi gioco la gnocca Che mi sembra molto cancer Sono veramente verso malissimo Tanto sei rimozione Perdo Eh In ogni caso Avevo la rimozione Avevo la prison Però In ogni caso Tanto sono sempre sotto Perché Prendo un turno di danno E poi è un casino Eh Eh sì Oh Mi sa che il paradiso Ragazzi È un po' Made in China Eh Eh un po' sì Ma pensare che Abbiamo Diciamolo Abbiamo testato Eh sì Andiamo diversamente E sembrava molto diversa La situa Esatto M'ha spaccato Rakdos vince Rakdos vince Però Boh È strana come cattura Però Mi incuriosisce Come carta Lo sai Anche se c'è la RNG Mi incuriosisce Io l'ho giocato Al pre-release E mi sono innamorato Eh Poi al pre-lease Cioè Dato che sei in limited Ti fa vincere i game Di solito Assolutamente Che bello era Con i dadetti A tirare RNG A manetta Con l'amversario Che sta sudando Lì Nella pensione Esatto Esatto Bellissimo Bellissimo